Sappiamo che il tema della ludopatia è diventato a tutti gli effetti una, tra virgolette, patologia, una malattia proprio identificata. Ci sono dei servizi che hanno seguito l'alcolismo, che hanno seguito la droga, che stanno seguendo gli episodi anche di ciberbullismo, di dipendenza, diciamo così, dei video. Adesso c'è un sermento da alcuni anni significativo di competenze e di risorse pubbliche che vengono usate per curare le derive di questo gioco. Quindi certamente è una situazione che già è di emergenza e bisogna fare di tutto affinché questo fenomeno che disgrega, lo ribadisco ancora, le persone, le famiglie e indirettamente la comunità venga quantomeno arginato. Nessuna criminalizzazione, noi pensiamo che con gli operatori ci sono anche dei percorsi, oltre all'obbligo che loro hanno di partecipare a corsi di formazione, di adeguarsi a quelle che trovano discipline sia nazionali e regionali che quelle che ogni comune adotta, ma hanno anche un compito, come dire, nei confronti dei giocatori di identificazione, di contenimento. Ecco, tutto questo venga vissuto non come una limitazione a libertà economica, ma come il senso pieno di un'attività economica. Ci aspetteremmo però forse qualche maggiore alleanza con gli operatori, perché non crediamo che siano solo gli operatori specializzati che devono dare una mano, ma anche una certa sensibilità del barista, dell'operatore, del gestore delle sale di videolotterie. Ecco, in attesa delle modifiche normative che per noi sono importanti, questa alleanza, come dire, sarebbe importante. Gli operatori non fanno parte della rete, potrebbe essere una provocazione di dire fate parte anche voi in qualche modo. Il tema è quello di venire con un contributo positivo, sapendo che ci sono dei momenti in cui bisogna scegliere tra il vil denaro e il benessere delle persone. Questo discrimine per noi amministratori che vediamo sempre più faticoso, la gestione delle comunità, ecco, penso che sia il minimo che possiamo chiedere ai nostri operatori. Grazie a tutti.